Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Gli strascichi dei dissapori vissuti nella casa del GF VIP continuano ad alimentare le tensioni tra Alex Belli ed Aldo Montano, i quali dopo aver vissuto un rapporto di amicizia sono addirittura arrivati a scontrarsi fisicamente, e da allora la frattura tra i due è stata siderale In ogni contesto in cui si sono ritrovati i due ex geffini non sono mancate stoccati né velenose, in particolare da parte dell'ex sciabolista che intervenuto come ospite dell'isola Parti non ha rinunciato alla ghiotta occasione di lanciarsi all'assalto di Belli Così Montano ha deciso di provocare l'attore Parmense rivolgendogli un tagliente commento, stavo guardando Alex un po' come quando lo guardavo mentre cantava Esmeralda Non sto capendo, ma entra all'isola dei famosi? Sta davvero entrando? Non si fa una settimana in più pure lì? A lui piace fare i giri un po' da tutte le parti Ah, era su un'isola diversa in vacanza. Attenzione che quello prende un aereo e va davvero all'isola A pagamento ci va, pure a nuoto. Il ruvido faccia a faccia tra Aldo Montano ed Alex Belli Dopo questo primo affondo contro Alex Belli, il campione olimpico ha fatto un elenco delle mancanze del suo vecchio compagno d'avventura al GF VIP Definendolo un mezzo sportivo e tornando a ribadire che secondo lui al reality ha solo portato avanti una recita, a differenza sua che ha vissuto le dinamiche come una persona leale Aldo Montano risposta di Alex Belli.Leggi anche, clamoroso isola dei famosi Roger sbuggiardato dall'ex fidanzata, non dice la verità, prima di partire mi ha confessato che Incalzato da Ignazio Moser sul famigerato triangolo amoroso del GF VIP 6, Aldo Montano ha espresso ancora una volta la sua costernazione e riprovazione dichiarando senza fremi Recitazione artistica, chi è il più bravo tra Alex, Delia e Soleil? Io credo che dopo sei mesi di supercala al primo posto ci metto Belli Mi sembra logico, ma proprio alla grande, a distacco. Ha quasi doppiato gli altri in recitazione Al secondo credo Delia e poi ultima Soleil.Al campione olimpico ha replicato a tono Alex Belli, che intervenendo come ospite del format l'isola party non si è astenuto dallo sferrare un suo assalto Caro il mio Aldo Montano Percepisco ancora un po' di bruciore. Ma ti ricordo che senza il mio intrattenimento e la supercala di cosa avremmo parlato delle partite a biliardo? Una stoccatina pungente da parte di Belli che ha rivendicato il suo ruolo da protagonista principale della sesta edizione del GF VIP, ed infatti è stato uno dei geffini a creare maggiori argomenti su cui intavolare discussioni sociale ed in tv, che hanno fatto lievitare lo share del reality targato Canale 5 Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video